Chef per un giorno è un'iniziativa che la scuola ha voluto promuovere per valorizzare un patrimonio culturale in quanto quello gastronomico io credo sia l'eccellenza della costa. I ragazzi delle scuole medie di Diamante e di Buonvicino hanno risposto in maniera eccellente a questo concorso gastronomico volendo mettere in evidenza l'utilizzo essenzialmente dei prodotti locali quali il cedro, il peperoncino e il chiarello come base proprio delle loro ricette. Ricette che sono state realizzate insieme ai nostri alunni del corso alberghiero grazie anche ai nuovi laboratori di cui la scuola si è dotata per quest'anno. E' ancora un'iniziativa per la quale dobbiamo ringraziare sia il preside della scuola media di Buonvicino e Diamante, il dottor Di Pasqua, e le responsabili dei progetti di Diamante e Buonvicino, la professoressa Trifiglio e la professoressa Amoroso, nonché tutti gli alunni che hanno partecipato e anche i responsabili, non per ultimo chiaramente, i responsabili del progetto alternanza scuola lavoro, la professoressa Fabiani con lo chef greco Giuseppe e Bruno Giglio e quelli dell'orientamento che la professoressa Corcione e la professoressa Calonigo che hanno voluto fermamente questo evento, la realizzazione di questa manifestazione in quanto il nostro territorio ha bisogno di ancorare le proprie radici a ciò che il territorio stesso dà, cioè i nostri prodotti e le nostre risorse.